La strategia è la vaccinazione che ha considerevolmente migliorato la situazione e l'osservanza delle regole, dei protocolli, dei distanziamenti, delle mascherine, tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo, quasi un anno e mezzo, con delle lezioni severe, tremende, che speriamo di dimenticare. Continuare ad osservare le regole, così da Parigi il Presidente del Consiglio Draghi nel corso della conferenza sull'economia dei paesi africani. Per Draghi ora si deve guardare avanti con interventi anche in economia, alla Camera e al Via Libera, alla fiducia apposta al Governo sul Decreto Sostegni 1, mentre tra domani e dopodomani l'esecutivo si appresta a varare il Decreto Sostegni 2 da 40 miliardi in gran parte destinati alle imprese. E chiedono aiuti immediati e il riconoscimento dei diritti fondamentali anche i braccianti che lavorano nei campi del Sud. Gli invisibili, così si definiscono, che oggi hanno marciato per le strade del centro della capitale, verso Montecitorio. Hanno paura, questa è la nostra arma, sono asparagi e carciofi. Qui dietro c'è sangue, c'è schiavitù, c'è sfruttamento, mancanza di permesso di soggiorno, mancanza di un medico di base, mancanza di una casa, sfruttamento. Con questo che viviamo, da lunedì a lunedì.